Gianni Amen. Il divo turco ha catalizzato il gossip per tutta estate per via della sua chiacchieratissima love story con Diletta Leotta Love story che pare sia giunta la capolinea le due star non hanno mai annunciato ufficialmente di aver trontato Tuttavia sembra più che palese che la relazione non ci sia più Alla luce del fatto che da due mesi ormai non si mostrano assieme Anzi si sono addirittura evitati in alcuni frangenti, il che fa ipotizzare che ci sia del gelo A proposito della questione rottura Candy Letta